Buon salvone appassionati di Football Manager, quello che sto per presentarvi è il progetto più ambizioso mai tentato su UFM, ovvero la Hero Academy, che viene fuori dalla fusione di due challenge differenti, ovvero la Zero Two Hero che ci obbliga a partire da un campionato dilettantistico, in questo caso la Serie D, per provare quindi ad arrivare in massima serie e provare a vincere quel campionato senza, attenzione, l'utilizzo dei prestiti. E poi la seconda sfida che è l'Academy Challenge, in questo caso gli obiettivi che abbiamo detto prima vanno fatti solamente utilizzando giocatori cresciuti nel vostro club, quindi o generati proprio dalla vostra squadra, marzo, aprile, poi dipende anche dal paese in cui volete provare a fare questa sfida, o li potete anche comprare da altri team, ma attenzione, possono avere al massimo 18 anni perché poi devono maturare i tre anni di fila nel vostro club prima di compiere i 21 anni per diventare appunto cresciuti nel vivaglio del vostro club, non nazione club. Tutto questo andrà fatto entro 10 stagioni e attenzione sono meno di quello che voi pensate perché ci sono anche obiettivi legati all'Under 20 e sì perché dovete diventare il miglior settore giovanile del vostro paese, magari le volte avete anche sentito tra gli obiettivi che vi dà la dirigenza, spiegheremo cosa vuol dire e quale è la strategia migliore per ottenere questo status. Ovviamente non dovrete scendere in campo voi con l'Under 20, dovrete mettere un mister a posto vostro che volendo potrebbe anche utilizzare la vostra tattica se vi fidate particolarmente di quello che avete creato per il vostro team A. Il punto è che questo allenatore, o l'Under 20, dovrà vincere il campionato primavera e dovrà vincere la Youth League, ovvero la Coppa dei Campioni in salsa primavera. Se decide di fare questa sfida in Italia vi ricordo che la struttura del primavera è stata rivista negli ultimi anni, ora esistono 4 livelli che vanno scalati se la vostra squadra partiva dalla Serie D. Cioè non basta arrivare in Serie A per partecipare al Campionato Primavera 1, quello che conoscevo tutti come Campionato Primavera Team, ve lo dovrete guadagnare sul campo, quindi non aspettate all'ultimo per fare gli investimenti nell'Under 20, altrimenti potreste non farcela per questione di tempo a portarvi a casa gli obiettivi relativi all'Under 20. Qualcuno però potrebbe anche dirmi, ma come faccio? Inserire il C, inserire di perdi un sacco di soldi? Quindi vi farò vedere un sistema alternativo rispetto a quello che abbiamo visto con la Road to Glory e il Pineto qualche tempo fa, vi farò vedere proprio un sistema che vi permetterà di aumentare il tasso tecnico del vostro club senza perdere un botto di soldi. Ma per rendere la sfida ancora più croccante, ho deciso di partire con un profilo senza patentino e, attenzione, questo patentino non verrà mai studiato per tutto l'arco di questi dieci anni, noi avremo sempre e solo il patentino nullo. Questa avventura la stiamo portando in live sulla piattaforma viola, se volete seguirla anche appunto in live, vado da lunedì al venerdì dalle 18 su quella piattaforma e, per chi non potesse però comunque seguire, ve la porterò come riassunto qui su YouTube, anche insieme alla Red Bull City Roll, che presto ritornerà perché c'è un'importante novità di cui dobbiamo discutere. La scelta di quale club andare ad allenare invece è stata fatta direttamente dalla chat di quella piattaforma viola, la mia richiesta era di prendere comunque in esame società che fossero vicine un pochino a casa mia, io sto a Siena e quindi il tetatet finale del sondaggio è stato tra Certaldo e Poggi Bonsi e ha vinto quest'ultima. Una società con i colori predominanti del giallo e del rosso è come simbolo un leone rampante. Fondata nel 1925 non è che abbia una grandissima tradizione sportiva, al più ammiritato in Serie C quando soprattutto ancora c'è la suddivisione tra C1 e C2. La squadra gioca nello Stefano Lotti, uno stadio che ricorda questo omonimo ragazzo, c'è lo campista del Poggi Bonsi che il 28 febbraio del 1988 purtroppo muore in campo per un malore. Una cosa che accade un po' troppo spesso ancora nel mondo del calcio, ma l'affetto della città verso questo ragazzo è ancora continuo. Infatti è stato anche realizzato un murale, sono baderato nel 2023, in cui ci sono quattro artisti differenti che hanno confluito le loro capacità per realizzare appunto il volto del ragazzo. Speriamo di dare un blasone maggiore a questo club proprio grazie a questa avventura. Per questa avventura ho deciso di impersonare Davide Moscardelli, un ex cacciatore italiano, anche se qua come potete notare in realtà figura la nazionale belga perché lui nasce effettivamente in Belgio e per provare a vedere se complicava la vita non gli ho messo la lingua italiana. Andiamo anche a vedere le qualità qui di allenamento e psicologiche, sono le più basse possibili perché pure l'esperienza da ex giocatore è dilettante. Qui abbiamo solamente quattro dati diversi dall'uno che sono valutazione giovani, determinazione, disciplina e motivazione. Vi farò però vedere che questi dati comunque miglioreranno nel corso di questa avventura anno dopo anno perché ovviamente tengono conto di quelli che sono le interazioni tra voi e i cacciatori, tra voi la dirigenza e tra voi e il campo perché chiaramente anche i risultati possono portare a un miglioramento di questi valori. Questa quindi la rosa iniziale del Poggi Bonzi, potete già notare che non ci sono tantissimi cacciatori ma il vero trauma in realtà è che sono pochi quelli elegibili per questa avventura. Vi ricordo che possiamo utilizzare solamente i calciatori cresciuti in società, quindi andiamo su rosa, giocatori e poi andiamo su cresciuti nel vivaio e qui possiamo scoprire realmente quali di questi potremo portarci avanti nel corso di questo progetto. Ci sta Mazzoli che è cresciuto in società. Vanno bene anche tutti quelli che diventeranno del vivaio del club nel corso del tempo, ok? Quindi Barbera e Coriano, Martucci e Di Paolo no perché sono prestiti che hanno dato al nostro club, non sono di nostra proprietà. Vi ricordo che non possiamo utilizzare in questa avventura i prestiti, i giocatori andranno per forza acquistati. Ovviamente vi viene anche concesso un minimo di elasticità. Se erano presenti dei prestiti non fatti da voi, nella primissima stagione potete anche utilizzarli così come avete tempo un anno per mandar via tutti i giocatori non cresciuti in società. Non fate subito la rivoluzione perché ripeto potrebbe essere traumatico per il vostro club mandar via tutti sin dal primissimo giorno. I problemi chiaramente non finiscono mai perché vuoi diventare la più grande accademia italiana e dove stanno le strutture? A momento quegli allenamenti sono sette, quelle giovanili sono cinque, se questi dati non arrivano entrambi a tredici fungeranno da malus. E a noi servono addirittura i bonus e nelle prime due stagioni sicuramente non potremo fare neanche mezzo upgrade. Chissà se dalla terza o dalla quarta avremo i soldi necessari per cominciare a crescere da quel punto di vista. Anche la fusso giovani e indecente, solo sette, dovremo arrivare a venti. Ma inizialmente, siccome mancano i soldi, il presidente chiaramente ci dirà sempre nine. Sarebbe anche molto importante migliorare sin dal subito lo staff tecnico che ci servirà chiaramente per gli elementi in pre-season e quello medico per fare prevenzione e per curare eventuali infortunati. Quello di mercato lo andrei a migliorare dopo perché inizialmente non ci serve l'osservatore. Voi dite ma come? Non hai valori visibili? Non sfrutti le liste? Come fai? Il mio sistema prevede l'utilizzo del direttore sportivo al massimo, non dell'osservatore. Quindi andiamo a migliorare immediatamente quelli che sono gli slot vacanti e poi se proprio sono veramente scarsissimi pensiamo a licenziare il personale già presente. E voi direte perché? Perché quando tu vai a licenziare qualcuno devi pagare immediatamente il suo onorario e quello intacca subito il budget complessivo del club. Quindi se io dovessi licenziare putacaso Balestri dovrei dargli 6.500. Ma questo solo perché ha un anno di contratto. Se ne avesse due dovrei dargli 13.000. Certo c'è anche, ricordiamoci sempre, la possibilità della rescissione consensuale. Tasso adesso sul personaggio che vogliamo far fuori, contratto, risoluzione consensuale. In questo modo noi gli paghiamo solamente la metà del suo onorario rimanente. Molto basso anche il budget ingaggi. Ci sono diversi club in questa divisione che hanno disponibilità più importanti. Per esempio il Livorno 700 e passa. Certo ci sono anche club che hanno la metà di questa disponibilità. Però il punto è che noi abbiamo quasi saturato questo monte ingaggi perché già spendiamo 4.21. E questo è un problema perché per fare nuovi contratti ci servono i soldi. Quindi sicuramente qualche elemento dovremmo venderlo sul mercato per raccinare qualche soldino. Purtroppo è da avere molto basso anche il budget trasferimenti perché avrei potuto sfruttare questo per alzare il monte ingaggi, no? Andando su gestione budget, spostando i soldi qui così potevo avere più liquidità per i nuovi contratti. Ma questo budget trasferimenti in realtà è una risorsa talmente importante che può essere infatti utilizzata anche per alzare il budget osservatori. E voi dite ma come? Hai appena detto che non ti servivano gli osservatori? Verissimo. Ma questo budget osservatori serve anche banalmente per estendere l'area di ricerca. Al 4 settembre 2023 mi posso ritenere soddisfatto per questo mercato iniziale. Abbiamo incassato 20.000 euro quasi, soprattutto grazie a Federico Borri che se ne va per 11.000 al potenza e poi anche a Leonardo Bellini che va via all'Ancona per circa 8.000 euro. Abbiamo speso 0 euro, quelli che potevamo appunto permetterci, ma arrivano 36 giocatori svincolati. La tattica che andremo a utilizzare è il 4-3-3 di Zidane di cui abbiamo già parlato anche su YouTube con questo video. È una tattica devastante. L'avete anche visti i risultati clamorosi fatti in Serie A ma visto che c'era qualcuno che aveva dubbi sul fatto che potesse funzionare in Serie D la sfrutteremo anche in Serie D e vedremo come si comporterà. Abbiamo anche due secondi mediani che sono proprio il cuore pulsante di questa tattica, mi raccomando. prendete elementi che sappiano sia fare la fase offensiva sia quella difensiva perché poi devono fare anche da filtro se no poi i difensori vengono esposti. Nel caso in cui il vostro avversario dovesse veramente attaccarvi con tutto chiaramente l'arsenale possibile e immaginabile vi ricordo che potete anche decidere di abbassare di una lineetta verso il basso la linea di difesa ma noi non l'abbiamo mai fatto nei test che servivano appunto per testare la tattica. Vediamo con quali interpreti ci giocheremo. Terzino, destro, Alfa Guayet un giocatore molto rapido grande accelerazione, agilità, velocità, determinazione, cross controllo palla certo, lato difensivo magari gli manca qualcosa in qualità mentali importanti come posizione, intuito magari anche un pizzichino di coraggio e freddezza non avrebbe guastato però è un elemento di 19 anni senegalese io spero che veramente possa crescere a me fa veramente piacere quando arrivano giocatori anche di altre nazionalità perché sono sempre un valore aggiunto ovviamente Terzino, sinistro, titolare Hermes Purro un giocatore che in realtà il Poggi Bonzi utilizza come esterno alto sia a sinistra che a destra io preferirò metterlo invece come terzino perché? perché secondo me non è abile su FM né in dribbling né comunque anche in accelerazione, agilità preferisco tenerlo dietro e visto che sa comunque un minimo difendere perché marcatura, contrasti, posizioni un minimo ce le ha direi che lì potrebbe fare meno danni forse signore Hermes perché poi capirete che qui in realtà potrebbe apersi un dialogo un po' particolare ma ci arriveremo passiamo adesso alla coppia dei centrali questo è il giocatore sulla zona di destra ad Amadosso un elemento molto forte nel gioco aereo 2 metri e 0,2 per 15 in colpi di testa anche la massima in relazione fa paura 15 è un po' lento ha una scarsa freddezza però è veramente stragiovane quindi incrociamo le dita come difensore centrale con piede sinistro Yannick Sheik un giocatore ex Cantera Lione ma problematico per quanto riguarda la marcatura e anche a livello comunque di qualità psicologiche determinazione veramente pessima anche personalità neutra questo è un bel problema bisognerebbe metterlo in tutelaggio insieme ad altri calciatori purtroppo anche se noi volessimo magari metterlo inizialmente insieme ad altri difensori centrali anche per favorire un po' il lavoro sui legami non ci porterebbe da nessuna parte perché in questo gruppo di soli difensori centrali vedete come abbiamo semplicemente un allievo e nessun mentor nessuno che ha un impatto sul gruppo quindi in realtà non possiamo farlo così dobbiamo prendere Sheik e metterlo in un altro gruppo dove ci sta qualcuno che può aiutarlo appunto a crescere è comunque difficile in questo contesto perché un po' tutti i giocatori del Poggi Bolsi come sapete in realtà sono giovani passiamo invece a centro campo come secondo mediano di destra ma volendo potrebbe giocare anche sull'altro lato Levi Schium un giocatore danese che ha diversi valori intriganti vedete come per esempio è abbastanza mobile in accelerazione e velocità però poco equilibrio poco concentrazione poco intuito vergognosissimo senza palla avrei preferito magari questi valori un po' più alti e un controllo palla magari leggermente più basso però ovviamente a cavallo donato non si può guardare in bocca lo prendi a zero e te lo tieni così i primi anni dovremo proprio lavorare singolarmente su questi ragazzi con il focus aggiuntivo sui singoli interpreti per andare a migliorare le loro lacune regista arretrato perno basso di questo sicuro campo sarà Linares giocatore spagnolo con discrete doti di impostazione abbiamo visione tecnica passaggi dribbling controllo palla che per la serie D sono sicuramente buone poi però ha due in determinazione quindi diciamo che questa è la serie D queste sono le categorie inferiori dove anche se una qualità è davvero molto importante devi sfruttare il fattore compensazione perché non hai altrimenti modo di trovare legge perfetta per quel ruolo ti devi anche adattare soprattutto quando nel nostro caso non hai una lira Timothy Stroke è l'altro secondo mediano questa volta olandese vedete come diciamo ci sono tutte nazioni differenti perché chiaramente cerchiamo di andare su quello che ci sta sul mercato a disposizione questo mi fa molta paura perché 14 in controllo palla 14 in passaggi sono ori molto alti però poi ti trovi con 7 in forza 5 in equilibrio 5 in concentrazione 6 in coraggio 6 in senza palla ripeto non sono adattissimi veramente per fare quello che gli chiederò di fare e quindi la mia paura è che potremmo avere delle difficoltà iniziali perché già il nostro tasso tecnico è sicuramente più basso rispetto alla categoria di riferimento poi abbiamo anche dei giocatori un po' particolari però questo c'è 17 anni attenzione questo farà 18 anni a marzo quindi davvero molto giovane sicuramente inizialmente potrebbe avere un upgrade veramente devastante nelle qualità proprio perché giocando lui che non si aspetterebbe di giocare potrebbe veramente subito migliorare tantissimo nei primissimi mesi spostandoci sulla tre quarti sulla destra nella fattispecie metteremo Angelo Barone lui piede sinistro soprattutto un giocatore che ha delle mancanze assurde nelle qualità mentali penso che sia il peggior giocatore che abbiamo comprato per qualità psicologiche però attenzione è alto anche un metro e 86 athleticamente ci sta il che vuol dire se poi arriverà una palla sul palo opposto lui potrebbe anche arrivare con il fisico se magari non ci arriva con la tecnica che tra l'altro gli manca perché c'ha 7 in tecnica sì lo so davanti siamo veramente messi male forse più che in altri ruoli l'attaccante esterno sull'auto opposto ovvero sulla sinistra per sfruttare il piede destro e tagliare qui di verso il centro col piede opposto è Bryce Dennett ex Ren un giocatore che a livello atletico ci sta 14 in accelerazione 12 in agilità poi però fisicamente a quel 3 in forza 7 in massima elevazione unite poi anche all'altezza veramente basso 1,69 non ci garantirà i gol di testa che invece potrebbe garantirci ovviamente Barone però in compenso le qualità psicologiche sono leggermente migliori anche se qui ci sta un 6 in coraggio 5 in concentrazione insomma ci sono valori molto bassi ricordiamoci che sotto il 7 fungono da malus i dati delle statistiche dei calciatori 5 in contrasti 5 anche in marcatura quindi è anche un giocatore che farà fatica ad aiutarci ovviamente in fase di ripiegamento però è anche un giocatore anche qui 17 anni quindi un 2006 che potrebbe esplodere comunque già solo giocando la punta sarà Aleco Tancredi uno spagnolo che per carità ha delle mancanze perché coraggio 3 è veramente grave per un'unica punta giocate tipo la rovesciata hanno bisogno per esempio di un buon coraggio ma in generale serve per la punta perché deve alle volte metterla il piede anche laddove magari potrebbe rischiare per la sua stessa incolumità ecco serve quel pizzico di euforia che gli manca a questo ragazzo mettiamola così però colpo di testa ce l'ha anche se la massima azione è veramente ridicola c'ha affidazione accelerazione velocità senza palla controllo palla sono valori altissimi per la serie D e anche gli altri comunque non sono molto distanti se pensiamo per esempio alla freddezza all'intuito alla tecnica quindi è un giocatore su cui ci si può lavorare terminiamo con il portiere Mert Alegoz allora qui sono davvero strasoddisfatto per quanto riguarda le qualità tecniche anche se avrei preferito un controllo palla più alto perché uno è veramente osceno anche mentalmente non è messo malissimo fisicamente resistenza non c'è agilità non c'è equilibrio non c'è anche qua ripeto siamo di fronte a un calciatore che normalmente farebbe fatica ad essere inserito da titolare però io voglio puntare su quelle qualità positive tecniche e sperare che tutto vada bene poi se vediamo che fa danni dovremo tentare magari un'altra soluzione perché quei portieri bisogna stare attenti sono giocatori particolari sono giocatori che con un errore possono chiaramente rovinare l'intera stagione questa invece la rosa totale del Pogibon si potete notare come è cresciuta tantissimo sia in numero sia in qualità perché chiaramente il tasso tecnico si è elevato di questo Pogibon rispetto all'inizio e non era scontato visto che puntavamo solamente a giocatori giovani quindi abbiamo rivoluzionato la rosa del Pogibon ma l'abbiamo anche migliorata anche lo stipendio medio si è abbassato prima era 18 e qualcosa adesso è 14 e ora stiamo spendendo qualcosa come 450 mila euro quindi neanche tanto di più rispetto a prima nonostante ci sono molti più giocatori e attenzione perché è presente anche l'under 20 che non era scontato certo alcuni giocatori sono fuori ruolo perché questi tre giocatori per esempio erano già presenti nel Pogibon non sono riuscito a venderli in estate quindi li ho messi in under solo per fargli capire che non sono i benvenuti sperando che poi a gennaio andranno via però vedete che tutti i resti giocatori è perfettamente giovanissimo quindi abbiamo anche creato in parte l'under 20 quindi è stato uno sforzo veramente colossale quello che abbiamo fatto già alla primissima storia non era scontato l'under 18 invece ovviamente è vuota perché non sono riuscito ancora a rafforzarla lì poi ci penseremo nei prossimi anni al termine anche di questo calcio mercato estivo abbiamo completato l'organico dello staff della prima squadra e anche dell'under 20 quindi arrivano anche i due osservatori per completare l'opera probabilmente avrete anche notato che i giocatori che sono arrivati in questa primissima stagione col Pogibon spesso arrivavano a ondate in una stessa data perché il sistema che abbiamo elaborato che rivoluzionerà completamente il modo di fare mercato nelle serie inferiori non solo permette di aumentare il tasso tecnico di pagare 0 euro e ovviamente di andare a prendere questi calciodori senza osservatori senza liste e senza l'utilizzo dell'editor ve lo spiegherò nel prossimo video perché avessi dovuto parlarne qui ovviamente l'avrei dovuto liquidare o in due minuti o avrei dovuto approfondirlo come voglio fare e quindi mi serve un video ad hoc altrimenti questo sarebbe diventato un episodio troppo lungo questa carriera avrà non solo gli episodi narrativi ma avrà anche degli approfondimenti ad hoc specifici appunto ogni volta che ci sposteremo da una divisione all'altra quindi aspettatevi anche video complementari a questa challenge poiché lo status del Pogibon si ovviamente è semiprofessionista non possiamo allenarci tutti i giorni della settimana quindi dovevo ideare un programma settimanale in pre-season che mi permettesse di andare a trarre il meglio da questi pochi giorni quindi quello che ho voluto diciamo puntare non è aumentare le qualità tecniche mentali e fisiche per fare quello servono tanti mesi al plurale quindi sono obiettivi che invece si possono raggiungere in molto meno tempo come per esempio portare al massimo la familiarità ora qui vedete semplicemente una barretta a metà ma vi posso assicurare che questa barretta è piena è piena perché noi facciamo due partite alla settimana e come ho già dimostrato nel video numero 2 della playlist di allenamento che potete appunto andare a consultare basta mettere due partite a settimana per portare questa barretta al massimo quindi anche se quando lo vedete qui ci sarà la partita sempre al mercoledì e al sabato in questa pre-season per mettere le partite sempre al mercoledì e al sabato e tenere sotto controllo meglio quindi allenamento questo è il video che fa per voi andiamo a spiegare anche il perché delle altre sessioni la rafforza legami ci serve per andare a lavorare sull'affiettamento di squadra per tentare appunto di alzare il prima possibile le intese ed è per questo che abbiamo messo anche le solo posizioni offensive che lavorano anche sulla soddisfazione così come l'attacco appunto sulle fasce perché ho messo invece la riabilitazione perché ripeto ci sta un'altra partita e dovevo tenere il più basso possibile la predisposizione agli infortuni che in realtà anche se non si vede qui è tendente un po' di più al rosso cosa ho fatto quindi per ridurre questo rischio che si alza un po' con un programma settimanale con due partite un po' con ovviamente anche un'intensità un po' rossina della tattica vabbè sono andato ad esempio su a riposo e ho messo una intensità di allenamento un po' più bassa nel campo nel palestra nei più due slot mezza intensità nel terzo e nel quarto e normale solamente nell'ultimo possiamo anche andare a notare come abbiamo lavorato sul singolo calciatore ovvero abbiamo allenato il giocatore solamente nel posizio di ruolo e compito in cui lo volevamo utilizzare questo sempre per massimizzare la probabilità ovviamente della tattica ma non ho messo focus aggiuntivi perché ovviamente anche lì poi andiamo a lavorare un po' di più sul giocatore e non volevo farlo perché la pressione è già abbastanza pesante grazie quindi a quella sessione di allenamento e tutte queste partite svolte in preseason prima ancora di giocare la primissima partita di campionato contro la triestina il Poggi Bonzi vantaggia una famiglia di squadra al top ma anche a giusto posizione ruolo e compito che è una barretta che tende a riempirsi con un po' più di lentezza ma anche perché la colpa è Dinares e Cianco Day che come vedete hanno una famiglia un po' più bassa perché sono arrivati da un mese un mese e mezzo quindi ci si è lavorati un po' di meno ma soprattutto sono giocatori che nascevano per giocare in altri ruoli quindi è un risultato particolarmente clamoroso se ci pensate perché è rimasto solamente burro dell'undici titolare di partenza al The One abbiamo trasformato l'intero club e nonostante questo ripeto abbiamo già un'ottima familiarità il vero problema che potrebbe crearci qualche scossone all'inizio della stagione è però questa piramide gerarchica perché non abbiamo leader ma soprattutto questi quattro giocatori un po' più influenti perderanno la loro influenza durante questo inizio di stagione perché ovviamente non saranno protagonisti non giocheranno e quindi diciamo che avremo ulteriori problemi prima partita di campionato che parte subito benissimo perché già a 40 secondi dall'inizio della gara c'è questo rimpallo che favorisce Barone 1 a 0 per il Pogibosi qui vediamo in quest'altra azione subito la trazione offensiva di questo modulo che è poi il punto di forza vedete come abbiamo due giocatori per fascia molto vicini che al centro abbiamo in questo caso la punta Vitiello poi abbiamo Denetl l'altro attaccante esterno e poi c'è l'inserimento dell'altro secondo mediano quindi Guayet porta avanti la sfera mette un cross diciamo non perfetto ma ci mette anche una pezza al nostro vantaggio il portiere avversario 2 a 0 dopo soli 6 minuti poi la famosa palla inattiva ovviamente non può mai mancare su FM preciso colpo di testa in mezzo a due giocatori veramente fantastico come sulle palle inattive escono fuori goal allucinanti dove sembra veramente non esserci nulla da fare bisogna accettarlo altro cross altro goal in questo caso possiamo però notare come l'avversario merita questo goal perché ha spinto veramente tantissimo poi a un certo punto pur di riuscire a portarsi un'altra volta in parità switch sulla mentalità offensiva che è un po' diciamo il modo di fare degli acqui stanno su FM quando sta sotto allora porta tutti davanti quante volte avete visto anche negli angoli di fine partita vedere pressione il portiere che si butta in avanti quello si può ottenere appunto mettendo al massimo la mentalità di squadra ad ogni modo finirà questa prima partita 2 a 2 usciamo abbastanza presto anche dalla Coppa Italia di Serie D perché al secondo turno perdiamo ai rigori contro le figline pur essendo diciamo stati in grado di recuperare al 49esimo pur giocando con un giocatore in meno sin dal 14esimo è una partenza sicuramente non negativa quella del Poggi Bonsi in questo inizio di stagione perché pur facendo tre pareggi in campionato è ancora in battuta certo ci sono delle difficoltà che dobbiamo ancora affrontare perché come vi dicevo non ci sono leader la squadra chiaramente è molto giovane mancano personalità forti e quindi ci sono delle difficoltà che possono in questo modo manifestarsi però possiamo anche notare che tutto sommato siamo al momento secondi in classifica a un punto dal Tau ahimè però non avevo fatto i conti con un villade interno al Poggi Bonsi il signor Hermes Puro qui sbaglia il rigore contro il Seravezza che poi ci batterà 1-0 mentre con il Sansepolcro ancora Puro sbaglia un appoggio tutto sommato non difficilissimo fa ripartire il Sansepolcro in Contropiede che sarà poi micidiale e porterà Ferri Marini a servire Brizzi che poi servirà Buzzi Brizzi per Buzzi comunque per il gioco di Palore lasciamo perdere sta di fatto che Poggi Bonsi perde 1-2 ancora una volta con questo ragazzo la maggior parte di queste partite che noi andiamo a perdere è causata da errori di Purro è veramente incredibile ogni volta che lui gioca noi perdiamo a questo punto comincio a pensare che porti sfortuna quindi comincio a utilizzarlo sempre di meno nelle prossime gare fino a promettergli finalmente la cessione a fine stagione anche se la chatta non mi perdonerà mai questo gesto sta di fatto che comunque non era neanche del vivaglio quindi andava venduto a prescindere per provare a risollevarci da questa situazione drammatica perché il Poggi Bonsi è quarto in classifica sebbene comunque non distante da Livorno che sta veramente volando 18 punti in differenza reti 27 punti totali ma noi abbiamo il bomber Tancredi potrebbe darci uno slancio ma non basta lui quindi mettiamo anche diverse amichevole questi amichevoli servono per alzare il morale dei giocatori poi andiamo anche a alzarlo ulteriormente sui singoli ragazzi andando appunto a elogiare e criticare in base a quelle che sono state le prestazioni in allenamento in base chiaramente all'andamento delle ultime partite o chiaramente proprio all'ultimissima gara e vediamo cosa accade la squadra al 20 dicembre 2023 si trova prima in classifica a un punto in più sul tau con un Livorno che è andato un po' in difficoltà nelle ultime partite la partita simbolo di questa rinascita è proprio contro il Livorno dove attirare il rigore è Mert il nostro portiere e si perché tutti i giocatori che avevo provato dal dischetto avevano sbagliato nessuno aveva delle qualità per carità altissime però è assurdo come un portiere che non dovrebbe avere queste qualità addirittura ci fa la doppietta perché segnerà pure il 58esimo sempre contro il Livorno quindi lo metteremo per tutto l'arco della stagione e riuscirà a fare ben 8 centri ed è così che alla 31esima giornata di campionato con ancora 3 partite da giocare il Poggi Bonzi ha già vinto il suo girone della serie D con Tangredi capocanoniere poi abbiamo anche il miglior assistman Linares di tutto il campionato il nostro regista appunto adettato Barone il giocatore con miglior media voto poi c'è Breivik che era partito come appunto di sera poi ha fatto il titolare come terzino sinistro andiamo anche a vedere meglio questi dati abbiamo subito 31 gol ne abbiamo fatti 90 questa vi ricordo è la formazione che trovate anche su YouTube che come vedete ha vinto e funzionato perfettamente ovviamente anche nelle serie inferiori anche con questa intensità diamo uno sguardo anche al centro medico come vedete 9 soltanto infortuni durante l'arco della stagione mi sembra che sono veramente pochi quant'è? 1 al mese? fate voi i calcoli stiamo veramente parlando di un numero ridicolo eppure si tende a dire che l'intensità alta crea problemi questi sono fatti di una carriera svolta interamente in live sotto gli occhi vigili di tutti non è che dici puoi alterare qualcosa sotto gli occhi vigili di tutti non è una carriera offline dove io mi vado ad alterare le cose magari si utilizza fmrte si ricarica le partite per vincere no era tutto davanti agli occhi di tutti eppure non è successo nulla di grave in relazione a quella intensità ora onestamente si può continuare tranquillamente a raccontarsi fregnacce se si vuole ma la realtà dei fatti è un'altra cioè che non è vero che l'intensità crea problemi basta tenere sotto controllo gli altri otto parametri perché ripeto sono nove i parametri che incidono sulla possibilità di avere infortuni e l'abbiamo spiegati nell'episodio numero uno per quanto riguarda il discorso di come si fa l'allenamento questa quindi la scheda di Moscardelli a giugno 2024 quando tutto si è concluso abbiamo una reputazione del 10% abbiamo dei dati che sono sicuramente modificati anche qui per quanto riguarda le caratteristiche ma quello che ci interessava era soprattutto quello riguardante l'allenamento e la psicologia nonostante noi non studiamo nessun patentino un po' tutti i dati sono saliti a parte quelli relativi all'allenamento del portiere alla forma fisica e all'adattabilità abbiamo pressione dei quattro la valutazione giovani difesa gestione personale motivazione conoscenze abilità giocatori e determinazione diamo anche lo sguardo agli altri giorni per capire cosa è successo in serie di manche nelle categorie superiori fate anche caso ai vari caboclonieri nel gione A vince Reggio Calabria nel gione A la Fidelisandria passa anche Ostiamare San Benettese nel gione F Ravenna nel gione D Clodiense nel gione C Pro Palazzolo nel gione B davanti addirittura al Piacenza questo invece è il gione A passando invece la lega professionista nel gione C passa quindi il Catania nel gione B invece la fa da padrone il Cesena l'ultima squadra a vincere il campionato di serie C gione A è il Vicenza per quanto riguarda invece la serie cadetta curioso come 2 su 3 siano proprio quelle che sono salite su ovvero Parma e Cobo sale anche la Reggiana in questo universo ma Coutone si ferma a 19 il Milan invece vince in serie A il campionato con un punto di vantaggio sull'Inter cambiando completamente i connotati alla vita reale però è anche curioso vedere come Lautaro Martinez è l'unico calciatore in tutta Italia dalla serie D alla serie A a battere Tancredi per quanto riguarda i gol segnati queste quindi anche le statistiche finali della stagione per farvi anche notare come il portiere è riuscito a fare come avevo anche preannunciato 9 centri dal dischetto bene anche il Pogibonzi Under 20 che vince quest'anno il campionato Juniors nazionale ma la vera sfida inizierà la prossima stagione siamo infatti a luglio 2024 e come vedete questa volta il Pogibonzi sarà iscritto al campionato Primavera 4 quindi dovremo iniziare la nostra scalata verso diciamo il campionato Primavera 1 e perché non potevamo giocarci già l'anno scorso perché a questo campionato giovanile possono partecipare solamente i club giovanili i cui team principali diciamo militano in serie A B o C ma noi l'anno scorso eravamo in serie D a B Grazie a tutti.